Musica 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 Non c'éluve tutte le persone che conoscono perché ci sono le persone che sono stati Alla prossima, è stata un'elemente che non avessi a parlare di un'elemente. Grazie a tutti. 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 Noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi. Grazie a tutti. 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 la vita è stata un pochè, solo un minuto in seguito. Perciò la famiglia è molto bella. Fatti non è un piano perché i video sono i video virali. Entendete? Non è vero? Ok, ma io la faccio con questo. Grazie. No, ma io la faccio con il mio. Non, ma io le faccio. Non, ma io la faccio. Noi non sono scena. i sono scegliati, sono diceviati,�とうati, scegliati, identità, questi sono dei manti, anche se sono delle piscine in Italia, e se abbiamo incontrato one cosa come si mi piace, e se lo andavano così, e lo andavano così. e lo andavano così, se lo andavano così e i suoi amici, e se non so che a questi anni, di sicuri ce che si tolmò il italiano, ma non la gente può farlo. Ci sono legati d'Italia, in Italia, Non è un problema, non è un problema, non è un problema. grazie a tutti Non, 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 non. che cosa stai gritaro? Deta un'ICHTRE. C'è지가? Di un'ICHTRE. Ok. Come ci va a fare una borsa, ma come dice. Come c'entra i figli. Poi quello vieni a chiuso, se sono a chiusi, si escapi. E' come. Sì l'Italia non avrà, Noi di un'ichTRE che si fanno a chiuso, ma c'è ne sento che a chiuso, Sì. 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 Il suo serato, perché il suo serato, non neva ancora nessuna. Il suo serato un ha fatto. In generale, c'è un tuo confusso che ho mai fatto con un luogo. Un luogo maro, ciò che il cui 레몬 o pennellate sono in confusione. Quindi, le loro regalamento e la loro regalamento non parlano C'è un connesso di escola.. E quindi, quando ci sono plnale, ci sono stati tratti di città. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non, 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 non. Non, non, non. Ok, tu ti aspetta il nostro italiano italiano? Si tu lo sai, tuoi. E' un po' che si staccia il nostro italiano Non, ma cosa? Ah, sì Samba, non ma fai la faccia perché io ti fai la faccia perché io mi aspetta l'ho detto che non mi sono rilevato, ma non si può avere, non mi sono mai scoperto. Non ci sono ancora proprio la mia, ma non si è un po' di popolo. Se ci sono sempre un po' di popolo. A noi sono un po' di popolo. Ci sono un po' di popolo, ma non si può avere un po' di popolo, ma non mi piacevole. Ma non mi piacevole, perché non mi piacevole. La mia moglie dopo il popolo. Bli al dolfo, perchè avrete un sacco di평aggio, da primo ragazzo. Cigarette? Non ti servono? Mi lascia? Mi lascia che i anni fa. C'hanno? Si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I do not know. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Grazie, grazie 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 e così, anche se è stato un po' di risultato, in cui la città non si è stato un po' di risultato? Sì, un po' di risultato, ha un po' di risultato. In cui non hanno l'argomento, non hanno l'argomento con una città di un po' di risultato. la città, non si cercano di coinvolare il reachito, nessuno ha l'evento che sia familiare, non si accaduto, ma non si accadde in questo futuro. Quindi il rispetto delle persone che hanno fatto, non si accadde bene, non si accadde bene, non si accadde bene, non si accadde bene. Ok. Sepassa manchiamo, anche se facciam, sono ricevuti, ed abbiamo fatto una cosa, ma non si accada bene. Non si accadde bene, non si accadde bene. Siamo insegnandola. Quindi ci sono messi prima da un paese. Ora che ricordo, Non, 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 Si, ma cosa vuoi dire? No, ma cosa vuoi dire? Ok, grazie. Ok. Ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. 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 Inizia un'occhiata, vi ossia alle 10 mili di sita, fino a quando si vede che i nostri stockspolti Sono un'occhiata. Iscrivoli una cosa più facile e troverà la rendita a te riflessi. Fai Hunter le fare, non è un problema. Ti sono inizio di una cosa che quando si fanno i nostri scutti, non sei, non c'è il caso di alto, non c'è la mia cosa. Anche a questo che mi ha fatto, mi ha fatto una stessa, mi ha fatto un po' di queste persone. Non mi ha fatto una stessa, non mi ha fatto un po' di questa stessa. Non ci sono i nostri amici, non ci sono i nostri amici. Spettiamo le persone, perché a mesi dei bambini o i bambini... non c'è problema, viene un po' di caso... Non c'è problema... Non c'è problema... La cosa va fare? Non c'è problema. Non c'è problema. Il bambino ha falluto essere giapponati. Gli agricolo... Quasi... Chi si sa la mia vita, è dalla mia famiglia... non ha capito... Non c'è problema. C'è un'illante, un'illante. Quindi dobbiamo un altro che non è difficile da fare un'im notified da un'improvviso. No, no. Non mi piace ad andare da nessuno, ma che non sono domanda quando avessi, ma che arrivano un'improvviso per il contatto. 8 18 18 20 21 22 poi non c'è insieme a noi. non c'è nessuna persona non c'è nessuna persona che mi senti parlare parecchi PROCOL e questo giorno, così ti sono messa e avete fatti risposto a tuoi ma chi è stasera una condizione non bisogna fare nella situazione ma non bisogna fare ma non bisogna non bisogna低are ok, Grazie sì, qui ne stanno non c'è una cosa che mi ha detto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. iblia ioli iblia iblia Non lo faccio, ma naturalmente. Non lo faccio, ma grande. Ma ma insieme, flessi, ma in Italia, ma non lo conosco. In Italia, non lo conosco. No, non lo conosco. Bounty valutti. Ibrahima viena. Non so, non so, in Italia, non lo conosco. Non lo conosco, nonarlo. Non lo conosco. In Italia, non lo conosco, e certo? ok 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 dobbiamo capire il momento del tempo che non vende da capirbino non ci devono capire. Queste fanno un momento con il tempo che erano ma perché non ma mi pare che andiamo in un momento. Cammini, il tempo e non mi pareva, ma non mi pareva. Perfetto, ci sono tutti gli studenti, ci sono i ragazzi che io confiano. Asi sono i ragazzi delle persone, poi sono i ragazzi ho chiuso, facciamo per fare fare un'amore, No, 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 no. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 non c'era sì ma perché il mondo è già è un po' che sia ma lì si è un po' che mi ha fatto quando ci sono un po' che si è nata non è un po' che si è nata perché è nata che si è nata ma non è nata che ci si è nata ma non è nata e brava, hai mai mangi niao o la dolo? niao mi è nata, non lo so niao mi è nata che ci si è nata La mia vita è stata fatta, non è vero, non è vero e non è vero. La mia famiglia è fatta. No, 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 no. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. la mia famiglia è stata fatta, la mia famiglia è stata fatta, la mia famiglia è stata fatta. Non mi avete visto? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Miau. Harry Poi un po'nia di Sì 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 Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Ecco tutto. C'è un bel piano? Sì, il piano, grazie. Il nostro lavoro è sempre per creare la capacità. Ok. Per portare a la superficie, spiegare la cosa in Europa. Ci sono spiegati. Ci sono i media. Ci sono capito. Ci sono i speciali. Sì, non è vero, non è vero. Sì Anxiety, depressione, so give over, talatrosa, boba. Anxiety, you worry too much, because maybe you're worried that you have to do for your people. Understand that? You have to do this and do that. Your dream has to come through overnight. You understand? So you used to happen in a susurriere, you know, you have anxiety because you worry a lot. Yes, Moses. As soon as you have depression, you have to hustle, hustle, get to go, halis, uh, get to go very hard, but then halis, don't you? So now you give up, because, get to go, 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 get to go. You understand? Yes, yes. One, maybe some family, then they lay out, two, maybe some friends, and they all have to do. Okay. Yes, ten, ten. Yes. So, 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 a lot of things. You understand? So, boy, B, you understand? So, your legal definition is very good. Family, I'm not worried. You know what I'm saying? You know what I'm saying? I like to go, learn more, like a problem, but when the hassle of boys see about money, you know what I'm saying? Yes, yes. Because, I'm not, I'm not a ginger family. Yes. Boy, they have to go through ginger family, because they're going to work, because they don't want their families to worry too much. Yes, yes, yes. You know what I'm saying? Yes. So, sometimes, that's a secrecy, that there is a secret that you also could keep in support, but maybe because of pride, maybe because you don't want your family to worry too much. Yes. But many things come to play. So, the rule of Siyage that they're going to attack inside, it's no more healthy. Definitely. It's no more healthy with you. No more healthy. Definitely. Why are you doing the harm? You understand? We are lying. We are lying. We are lying. You understand? We are lying. We are lying. You understand? We are lying. The Gambian community in Italy, they're going to go out of hunger. Yes. You understand? Do not want to get them away from their own people, despite the tribe, the religion of everybody. no matter where we go we are blacks nothing no matter what you believe you are a black man thank you black so you cannot say you are the better black better black for where for them you are black so we have to look after each other and make sure the way we conduct ourselves thank you so you will see the coming of your chance people have to learn to integrate wherever you live and have your peace there is your country yes thank you very much they don't have to be late they don't have to be late they have to learn they have to integrate their community have their shops have their businesses look for jobs for your own brothers yes thank you very much Jerry Jeff yes thank you very much Jerry Jeff we are following and it's very good let nobody intimidate you into posting certain things you are doing your job if it is not there you don't have to do anything to post but if it is there there is something to be posted thank you very much and thank you for understanding also you're most welcome to your job we love you you know we supporting you anyway thank you so much thank you alright alright No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.